Allora, finirà 2 a 2 questa, adesso sto guardando la replica, comunque sia siamo 2 a 2, pare che Luna Rossa vada più veloce di Bolina, mentre nelle andature portanti, quindi la poppa, perché poi loro fanno due andature, praticamente, con la stessa regolazione di vele, perché l'angolo di incidenza al vento cambia completamente, essendo sospesi. Va bene, dai, a parte questi discorsi tecnici, siamo 2 a 2, pare che nella seconda regata New Zealand abbia dato un netto distacco, almeno ho appreso dai giornali a Luna Rossa, io purtroppo le regate non le ho viste, guarderò la seconda regata, secondo me New Zealand ha qualcosina in più. Però lo sappiamo, questo è uno sport strano, la scufia è dietro l'angolo, soprattutto con questi foil, quindi l'ottimismo permane, crediamoci fino in fondo, però secondo me il risultato della seconda regata comincia ad essere indicativo. Cioè, si arriva alla media dei 7, quindi sarà una sfida cardiopalma, quindi ottimismo fino alla fine.